Ah, che bei fulari per coprire le guance, belle signore che in piedi si sta, belle signore del ponte lance a vedere la Francia che se ne va. C'è una petite chanson sur le temps che passano, le temps che passano a correre la mer, la capitale è un bravo d'ici, le bon marino che vengono d'Italia e noi marina e noi marina e noi marina, non c'è una chanson di più, ma, non c'è un bel marino. Eric, puoi cercare di tecnici di cui ti sul lavoro? Ora ho lavorato con pigmento e acrilverf, una città acrilverf che ho ho messo con pigmento. E questo mi rendo nato, per il pigmento e l'acrilverf. e, con la scuola, menga la scuola, e la scuola, e la scuola, che stanno anche con la scuola. Quindi, la scuola, la scuola, non solo la scuola, ma anche la scuola, ma la scuola, ma la scuola, una scuola madr whole. Paola, una scuola, la scuola, che ho provato in un grotere caldo. E mentre qui ho ho messo, ho provato a questa maniera, come persone e come personale e come personale, anche come personale. L'altro l'altro, è il libro Il Barbare. Il libro è del moderno, del nuovo, in un gruppo di un gruppo di persone che usano da Google, che si usano da Google, che si usano da Google. E' solo un servo a livello, mentre io provo a tutti i miei studenti a cercare di cerchere. La searcha per il cervello. Io provo a cercare di profondità in, ma per il terzo di solito. E poi combino con quello che dice come Buddha, che diceva di vita. La blocci che ha con le loro loro stanno in stronti. e bisognava con le porti e le molle in, in un bloc, in un bloc. E questo è davvero. Questo è un bellissimo filosofia. Io ho ho visto su siti di un bolo in blu, ma che c'è ovviamente qui, e scrive il futuro e la prossima. Sì, ci sono momenti nella mia vita in cui ho scoperto, e in cui magari con alcune cose che vengono da tua vita e provo a fare qualcosa di altra cosa che hai sempre fatto. Ma anche cose che hai fatto da nature. ma anche come la bambina, come la bambina, ma anche la bambina, una filosofia di posta, il filosofo Stuart Mill, ha anche parlato di bambina che hanno potuto essere in tutti i bambini, e che in questo modo potrebbe essere una bambina come un metafo per il mio vita. Quindi sono anche inspiratori per i vostri studenti, e loro saranno anche in l'academia. Sì, sono ero. E alcuni sono rimane. Io sono accettere a Jan Dibbets. E ho sempre fatto molto buona. Non lo stesso tipo. Non lo so. Non lo so. ma sono delle foto collagioni, magari hanno fatto qualcosa di quello che ha anche. Ma ho avuto un buitenge un buitenge un buitenge un artista e, come ero, era un buitenge un buitenge un buitenge un buitenge un buitenge. Ma ho avuto che aveva sempre più ricche. Ha avuto un buitenge un buitenge. E così ci sono ancora più docente. Quindi leggo il sole, perché penso che sia così bene. Oh, no, 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 no. No, 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 no. and rode the boat as the light rose steadily strong and the birds were silent as they listened for the heavenly music when the river played the song the wind in the willows and the piper at the gates of dawn the wind in the willows and the piper at the gates of dawn the sun dream happened the cloven hoofed piper lay in that holy ground well it felt they all in wonder yeah they all were unafraid of the great court time and the wind in the willows and the piper at the gates of dawn the wind in the willows and the piper at the gates of dawn and the wind in the willows and the choir of the birds singing and the wind in the willows I think the painting is very important I think the painting is very important and I think the painting is important and that's why I'm that there is also almost abstract so as soon as possible people then Grazie a tutti, grazie a tutti. come schilder Ora, maggiore il nostro mondo. Questo faccio anche con le foto. Io faccio di una storia. che può essere una ruota o qualcosa di buiten e questa foto è un gruppo di rand per la sua indietro di rand per la sua indietro di rand è una foto è un piccolo di verità è un fragmento di verità quindi la verità è stata in una parte di fragmento e quindi posso utilizzare i miei fatti, miei foto, per farlo di realizzazione. Questo è proprio qui, con un pavillo di museo Inselhomburgh, in la buurt di Büsseldorf. Un pavillo di pavillo, con un pavillo, con un pavillo. E' un pavillo di pavillo che si è stato formato, non es poter, per la nuova che sono in un pavillo di due pilare di pavillo, per la nuova delle pavillo in un pavillo di pavillo. Questo è fatto in Parisi. in le Marais, Plas d'Avoggi, è un piatto un piatto, quindi ho fatto di quattro a fottos e in questo modo in questo modo, è in un'altra forma, con i 4 occhi e un pollo cubistico. Ma anche in questo modo, si sono anche molto attragero, e le bomen sono molto versierd, come si stavano in un lucio. E a un piaccio di un piano si stavano. be unmade you hit me where it hurt I didn't laugh your diaries are not a worthy epitaph well now Andy I guess we've gotta go I wish someway somehow you liked this little show I know this is late in coming but it's the only way I know hello it's me goodnight Andy goodbye Andy